Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata abbiamo ospite un cattatore, Nioxx. A questo punto, per chi non ti conosce, come descrivesti oggi Nioxx e soprattutto perché Nioxx? Allora, io mi presento, sono Nioxx, ho 27 anni, vado per i 28, sono classe 96, faccio musica da circa 8 anni. Io punto sempre sull'imprevedibilità della mia musica. Difatti, in questi 8 anni qua, ho abituato a chi mi conosce e anche a chi non mi conosce, a non sentire mai una canzone con sonorità simile all'altra. Ho sempre puntato a tirare fuori sempre qualcosa di sperimentale, per non dare quella scontatezza che oramai si sente tutti i giorni. Nioxx deriva da Matrix, da Nio. Mi sono fatto carico di un fordello pesantissimo perché Nio era il prescelto e ci sono, si dice che questa è una simulazione. Quindi io in questa simulazione provo a cercare di portare il sorriso, di portare emozioni, di portare tutto quello che riguarda il mio essere alle persone che mi ascoltano. E a questo punto parliamo un tanto dell'ultimo singolo che è Vertigine, che poi come nasce questo brano, da cosa tra ispirazione e come sei riuscito a poi aggiungere a questo risultato finale che tutti ascoltano? Allora, Vertigine nasce da una sequenza di vissuti che mi sono capitati, però che ho visto e sentito che appartengono molto a tante persone della mia generazione. Noi siamo quella generazione dell'incertezza più totale perché non abbiamo qualcosa di concreto. Dobbiamo andare tutti quanti a cercarci una risposta a delle domande che magari tante volte sembrano semplici ma che nascondono sempre tante trappole. E Vertigine è nata spontanea perché sono pensieri che un ragazzo come tanti potrebbe avere. Io ho cercato tramite la mia arte di far sentire meno solo chi potesse avere il mio stesso problema, magari nelle scelte di tutti i giorni. Abbiamo visto poi una copertina dove non riusciamo a capire se è un mare, se è un lago oppure tu l'immagine nelle nuvole. La sensazione è che comunque fluttua quest'idea. Da chi nasce questa copertina e chi poi l'ha messa in pratica? La copertina l'ho gestita e seguita tutta io. Ho tirato fuori un immaginario proprio della parola stessa. La vertigine e le vertigini sono quella paura che tanti soffrono fisicamente dal punto di vista quando hanno l'altezza. Non riescono perché sentono tremare le gambe, c'è quella paura. E allo stesso istante comunque la paura di buttarsi. Quindi anche la vertigina stessa che ti fa stare un po' sul chi va là nel buttarsi in una scelta. E quindi rimarcare sempre il discorso del dubbio, dei perché che tutti quanti noi ci facciamo. E questo brano ha anche un videoclip oppure ci siamo persi o ci sarà un videoclip? Il videoclip è in fase di lavorazione. Stiamo lavorando per cercare di rendergli giustizia più che altro. Farlo fatto bene con un'idea bella, precisa che già c'è, però bisogna avere tanti fattori a favore. Uno tra tutti è il tempo, il tempo meteorologico. Questo singolo è seguito a un album, un EP dell'anno scorso, del 2023, mi pare di aver capito che è l'EP di Trend, che poi è il singolo virale. Quindi in un anno, grande attività, ma quindi suonare dal vivo, poi hai suonato dal vivo, hai presentato questi brani. Quali sono le sensazioni che si provano salendo sul parco e avere un pubblico davanti che inizialmente è silenzioso, ma poi si anima, prende vita, si emoziona? A quel punto, nonostante che sei concentrato sui tuoi brani, però senti quell'energia. Qual è la tua sensazione che provi in quel caso? Allora, io quando ho iniziato otto anni fa avevo la paura, perché sono sempre stato un ragazzo timido, introverso. Però il cosiddetto battesimo del sangue, battesimo del sangue che uno si deve lanciare nella situazione. Una volta che prende un attimo di confidenza, si crea proprio un clima che ti fa proprio amare la musica dal vivo. Fare musica dal vivo vedendo gente che non ti conosce e ti ascolta la prima volta e dopo magari il primo ritornello, comincia a ricordarsi il ritornello, comincia a muoversi, comincia a venirti insieme nel tuo stesso mood, ti fa creare una connessione pazzesca. Difatti io amo suonare dal vivo i miei pezzi, perché poi io mi diverto, la gente si diverte, ci divertiamo tutti insieme, è un ammucchiamento di divertimento. Io sono proprio così, cerco di portare tutti quanti nel mio carro del carnevale, come lo chiamo sempre. E poi dentro questo carro del carnevale tutti quanti vedo che hanno sempre un sorriso, una buona parola nei miei confronti quando finisco l'esibizione. Allora significa che comunque c'è stato del coinvolgimento e quello è importantissimo quando uno fa la musica dal vivo. E invece il complimento che ti hanno fatto, scendendo al palco tu incontri le persone, c'è il rapporto diretto, qua è il complimento che ti ha fatto, che ti ha sorpreso, ma nello stesso tempo ti ha gratificato, ti ha dato quella sensazione in più rispetto a tanti altri, soldi oltre a se sei stato bravo. Diciamo che i complimenti variano tantissimo. Io mi sono trovato persone che mi dicevano ti voglio sul comodino vicino al letto la mattina per svegliarmi, cioè variano tanto. Poi dipende sempre da chi fa il complimento. Però i complimenti forse più belli che ho ricevuto sono stati dalle persone che hanno seguito la mia crescita in tutto questo mio percorso, che hanno visto un'evoluzione. E mi hanno detto sei migliorato tantissimo, cioè non sembri più tu, sembri un altro livello rispetto a come eri. E lì significa che il lavoro degli anni ha portato a qualcosa. Fa tanto piacere questa cosa qua. E invece c'è qualche artista che ti ha dato ispirazione o comunque hai saputo adattare alle tue caratteristiche quel modo di lavorare o quel modo di suonare che poi nel tempo ti porti comunque dietro? Dal punto di vista del genere a cui appartengo, che è l'hip hop, lo urban, io mi sono focalizzato tanto negli ultimi anni nella musica un po' più a cassa dritta. E la persona per eccellenza che sa fare, le due persone per eccellenza che sa fare questa musica qua sono Darje and Amico, che tutti quanti conoscono da Sanremo e poi, e poi Dante dei Two Fingers, che è stato un pioniere di questo genere qua. Ma poi vabbè, ce ne sono tanti altri. Però io, a differenza di magari tanti altri artisti che vengono dal mondo urban, io sono cresciuto ascoltando tutti i generi possibili. Quindi la mia playlist, ad esempio, delle piattaforme digitali, cioè non è statica. Magari c'è un pezzo dei Rolling Stones, c'è un pezzo degli Essie Desi, poi c'è un pezzo di Gabri Ponte, cioè quasi quasi non coincidono, però è così. Tu hai citato tante volte l'urban, il genere urban, ma per chi ascolta e sta vedendo in televisione a volte a difficoltare perché passare da un genere all'altro. Se dovessi descrivere a chi ti ascolta che cos'è l'urban, perché noi lo conosciamo, ma tu se dovessi descriverlo a chi non lo sa, come lo descriveresti in questo momento? Allora, il genere urban, detto brutalmente, è il pop di vent'anni fa, detto brutalmente. Tutti quanti adesso stanno facendo musica urban, perché la musica urban è un discorso, è un genere generale che comprende l'hip hop, il rap, l'R&B, il reggaeton. Tutto quella cerchia di sfera di musica che viene fatta da strada. E quindi tanti pezzi di tanti artisti toccano tante spiaccettature dello urban. Quindi si va veramente dal reggaeton, poi c'è il rap, la trap, la drill, la grime, ci sono tanti sottogeneri. E invece nella realizzazione dei tuoi brani nasce prima un riff, un beat, oppure nasce prima il testo, oppure diciamo che accidentalmente nascono insieme? Nasce, prima di tutto nasce l'idea di insedi come saranno le sonorità, perché io e il mio produttore Luca lavoriamo tantissimo sul cercare di portare roba ricercata, musica ricercata, di non cadere veramente nella banalità di fare cose simili o uguali ad altri. Quindi noi cerchiamo tante volte di metterci lì, trovare un'idea che piace a entrambi, su delle sonorità, quindi su magari delle melodie piuttosto che delle batterie particolari. E poi da lì partiamo con lui la stesura della composizione e io la stesura del testo. Se dovessi cambiare genere, oggi direbbero Bertigina, dovessi suonare con un altro stile e non quello che è adesso, utilizzeresti lo stesso testo e che genere e genere utilizzeresti, indifferente in questo caso dall'hipopro? Allora, diciamo che è una domanda particolarmente difficile. Allora, chi mi sente dal vivo dice che sono troppo punk per l'hipop. Mi vede e dice che sono troppo fuori di testa, quindi direi che magari potrebbe essere anche una soluzione alternativa, anche una situazione tipo rock punk, però non so quanto possa, dipende, dipende da chi suona dietro la batteria, la chitarra e tutto quanto. Invece a questo punto progetti futuri, oltre che chiaramente promuove il singolo, andare sicuramente a eventi live, ci saranno? Adesso sto facendo tantissimi live e ho fatto anche delle selezioni per un'etichetta discografica, per andare a Sanremo Giovani 2025, sempre con Bertigine. Progetti medio-futuri, dovrà uscire una nuova composizione, una nuova compilation. Probabilmente sarà un EP di altre cinque tracce che ho già pronto e probabilmente Bertigine farà la sesta di queste sei tracce che usciranno e non usciranno tra tantissimo tempo, usciranno tra qualche settimana, penso. Questo è il primo disco che hai fatto, perché hai già inciso un disco intero in precedenza, oltre a quello EP del 2008. Queste sono soltanto in formato digitale, oppure anche saranno quello nuovo in formato fisico? Per dire, un po' considerare anche le persone retro. Allora, il formato fisico l'ho fatto solo una sola volta, che è stato per Trashcani, che è uscito nel 2019. Il formato fisico per il momento non c'è quell'idea lì, perché comunque non tutti utilizzano più i vecchi sistemi per l'ascolto musica. E lo so, a me farebbe stra piacere fare un formato fisico per tutti. Però qualche alternativa si potrà sicuramente pensare. Magari possono uscire delle chiavette anziché un CDD, non lo so. Tutto su quello è tutto in fase di studio. Concluendo, ma secondo te le piattaforme che uniscono ai suoi servizi con tutti, gli annesti Spotify, YouTube Music, Apple. È un vantaggio, ma nello stesso tempo può essere uno svantaggio per un ragazzo che fa musica? Perché c'è il rischio di perdersi nelle migliaia, milioni di canzoni che escono ogni giorno, se non si viene a conoscenza del brano. Diciamo che la musica è cambiata totalmente. Adesso è più un discorso di marketing, perché adesso bisogna fare tanta pubblicità sui social network. Prima magari non c'erano i social network, esisteva magari tutto un mondo diverso dal punto di vista discografico. Dal punto di vista anche gratificazione, anche economica. L'artista con le piattaforme digitali, adesso stanno succedendo delle lamentele da parte di artisti big, come Kanye West, come Salmo, come tanti altri artisti in America, che dicono che comunque un artista che sia piccolo, medio, grande, attraverso gli stream non guadagna soldi. Cioè alla fine quello che guadagni non ne vale manco la pena. Forse prima con i dischi fisici guadagnavi perché c'era una vendita concreta di quello che facevi. Però lì è sempre un gioco delle parti perché ognuno giustamente la vede un po' a modo suo. Però c'è un calderone tutti i venerdì, escono 9.000 ragazzi nuovi, vecchi, più classici, meno classici. È tutto complicato. Forse è anche per quello che tante volte la musica tende a perdersi. Perché nell'insieme è difficile sempre trovare magari l'alternativa, il cantante che ti piace, piuttosto che l'artista preferito, tante altre cose. E invece molto spesso è nata l'assemble polemica dell'autotunes, ma dall'autotunes all'intelligenza artificiale. Quando secondo te l'uno o l'altro possono essere un pericolo o un danno per la musica suonata veramente? Io non credo... Sì, dimmi. Io non credo che possa sostituire... Cioè l'intelligenza artificiale può far comodo in certi aspetti della vita, perché magari è un aiuto, un supporto. Questo non lo posso negare perché comunque tante volte tutti quanti facciamo utilizzo anche delle semplici piattaforme che hanno come gestore dell'intelligenza artificiale. Però dal punto di vista musicale, piuttosto che cinematografico, piuttosto che della fotografia, cioè non puoi sostituire la qualità di gente che magari l'ha fatto per anni o gente che ci ha studiato, gente che ci ha fatto un mestiere su quello tramite un computer. Cioè non è la stessa cosa, perché la mano dell'uomo è sempre la mano dell'uomo. Se potessi salire su un palco indifferentemente da uno spazio nel tempo, su quale palco ti piacerebbe suonare o essere accanto a un artista a fare un duetto o un futuring? Allora, palco potrei andare molto più indietro della mia età anagrafica e potrebbe stemmiare per tanti. Però secondo me sarebbe stata l'apoteosi, visto che ci sono cresciuto con le loro canzoni, Wembley, con i Queen. Però è tutto un altro genere rispetto a me. Riposa in pace Freddie Mercury, non ti voglio scomodare. Cioè, tanto di cappello e il massimo rispetto. A questo punto, intanto ti ringraziamo per essere stato ospite. Ci mancano due cose fondamentali. Dove poterti raggiungere e ascoltare i tuoi brani e conoscere la tua storia, poterti seguire. E i saluti finali. Allora, a me potete trovare su Instagram come neox__music, su tutte le piattaforme digitali con il nome Neox. Mi trovate su Spotify, Apple Music, YouTube, un po' dappertutto. Chi mi segue, chi non mi segue, vi aspetto ai miei live per divertirci tutti quanti insieme e voglio vedervi sempre belli carichi, belli contenti, belli felici. Ringrazio voi, ringrazio te per il tempo che mi hai dedicato e per questa bella intervista. Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata.